È fissato per giovedì a Palazzo Civico il faccia a faccia tra la sindaca Chiara Appendino e i consiglieri comunali 5 Stelle. L'incontro fissato per le ore 18 è stato chiesto dalla capogruppo Valentina Sganga dopo l'ultimatum della sindaca alla sua maggioranza per riuscire ad avere un mandato pieno. Non intendo accettare battute d'arresto e compromessi al ribasso, ha dichiarato Appendino in aula. Se il male minore dovesse essere la fine anticipata di questa amministrazione, così sarà. Non sono disposta in alcun modo ad andare avanti col freno a mano tirato. La prova di forza della sindaca è iniziata lunedì mattina con la rimozione dall'incarco di vice sindaco di Guido Montanari. Un salone traslocato in Lombardia e Montanari sarebbe stato individuato come uno dei principali responsabili del clima politico poco favorevole alla manifestazione in città che ha quindi fatto le valigie per Milano. La capogruppo del Movimento 5 Stelle, Valentina Sganga, ha quindi chiesto un confronto interno ritenuto opportuno per risparmiare a Torino e ai torinesi una sovrapposizione fra il piano politico e il piano istituzionale. L'incontro si terrà, come detto, giovedì. In attesa del chiarimento politico tutto interno alla maggioranza, l'opposizione unita è passata all'attacco dei 5 Stelle. Per Stefano Lorusso del Partito Democratico, più che col freno a mano, Torino sarebbe invece oggi senza conducente. La sindaca vuole farci credere che il problema sia Montanari. In realtà ha un problema interno e ha cercato un capro espiatorio. Ma è lei che deve dimettersi, ha concluso Lorusso. Per Fabrizio Ricca della Lega, la sindaca Appendino ha per la prima volta ammesso di aver ceduto a troppi compromessi con la sua maggioranza, facendola pagare ai torinesi. Ora aspettiamo un impegno della sindaca Appendino in collaborazione con la regione, altrimenti si dimetta, ha concluso Ricca. Di sfida alla parte giacobina del gruppo di maggioranza ha parlato invece Roberto Rosso, di Fratelli d'Italia, che spera sia giunta la parola fine per questa giunta. Si attendono quindi le mosse dei consiglieri grillini, che dopo aver fatto mancare il numero legale nella seduta di lunedì, si contano per vedere quali siano le forze in campo a sostegno della linea Appendino e quali siano invece quelle contrarie.